Questo non è un virus normale. Nell'aria è stato rilasciato un gas dagli americani per mettersi contro i cinesi e creare una guerra contro la Russia. Il tutto per quale motivo? Semplice, per vendere vaccini. Drammenziale sì, perché diciamo in Italia siamo stati famosi fino adesso a creare la commedia all'italiana che è praticamente la fusione del cinema drammatico insieme alla commedia classica. Io ho voluto andare a oltre, praticamente ho messo il cinema drammatico insieme alla commedia demenziale. Da qui il drammenziale perché ho cercato di ridere, non della pandemia ci mancherebbe, ma di tutti quelli che si sono finora sostituiti, hanno voluto provare a sostituirsi agli scienziati, ai virologi e quant'altro. È un drammenziale, un dramma demenziale, dice Michele Coppini descrivendo il suo ultimo film Dio è in pausa pranzo, dal 28 marzo al cinema a partire dall'Adriano a Firenze. Una commedia che vuol farci ridere sullo sfondo della tragedia del Covid-19 e soprattutto del piccolo ma rumoroso esercito di negazionisti, complottisti e infine no-vax che ha scandito i primi due anni di questa pandemia. Un piccolo miracolo indipendente realizzare questa commedia girata anche durante il lockdown è stato detto da Alessio Venturini, sceneggiatore da anni e collaboratore di Ugo Chiti, nonché attore. Nel cast del film, prodotto da Massimiliano Manna, Michele Coppini e Alabama Monro per Officine Papavero, anche Francesca Cellini, Rachele Risaliti, Patrizia Ferretti, Ettore Bianchi, Aldo Pellegrini e Sergio Forconi, con la straordinaria partecipazione di Atina Cenci. Chiaro Michele, no? Gli ha detto un film abbastanza sfondo, molto molto demenziale, no? Allora dice, se ha bisogno di uno che faccia un po' di cose, dice, ma chiamavo subito, dice, il primo che si chiama, chi si chiama? Si chiama I Forconi, perché insomma per fare queste parti li adatto.